Il Consiglio regionale ha approvato con il solo voto contrario del Movimento 5 Stelle la proposta di risoluzione di iniziativa della Commissione Aree Interne, che impegna la Giunta regionale a proseguire nel percorso di confronto con il Governo al fine di giungere alla predisposizione di piani straordinari di intervento volti a prevedere meccanismi di aiuto e sostegno statale da destinare ai comprensori sciistici della Toscana in relazione alle conseguenze dei cambiamenti climatici in atto. Il quinto inverno più caldo dal 1800 e il secondo più caldo dal 1955. Questo ci ha detto il Lamma in Commissione Aree Interne dove abbiamo fatto un confronto a tutto campo con i sindaci, gli operatori del settore, il Lamma e gli assessori regionali. Per le stazioni sciistiche che sono sull'appennino della Toscana ma più in generale su tutta la dorsale appenninica in Italia, lo scenario, vedendo la sede storica, è chiaro. La stagione invernale tende sempre più a ridursi e quindi ovviamente si pone un tema di prospettiva di medio-lungo termine. Il turismo invernale è straordinariamente importante in termini di reddito ma se questo è lo scenario dal punto di vista climatico non possiamo permetterci di creare situazioni di grave difficoltà in prospettiva per questi territori. Occorre accompagnare azioni di adattamento di questi territori a un mutato scenario dal punto di vista climatico, diversificando l'offerta turistica, potenziando la parte estiva, la parte sportiva e tutta una serie di altre linee che devono nascere da un confronto con i territori. Noi non possiamo andare giorno per giorno dietro all'emergenza di fronte a uno scenario che ormai è chiaro. Dobbiamo accompagnare questi territori con scelte di medio-lungo termine che hanno bisogno di investimenti e per quello che noi chiediamo al Governo nazionale di mettere in campo un'azione specifica per l'adattamento al cambiamento climatico delle stazioni scistiche appenniniche. Allo stesso tempo ovviamente abbiamo chiesto alla Giunta regionale di mettere in campo una progettualità per i prossimi anni, altrimenti la stagione 2023, soprattutto le difficoltà e i danni che ci sono stati, rischia di essere una delle tante. Occorre fare i conti con la realtà e sostenere questi territori rispetto a prospettive di sviluppo che non accantonano il turismo invernale, lo diversificano e lo accompagnano ad altri tipi di peculiarità. La Commissione Aria Interna si occupa anche delle zone montane. In particolare abbiamo preparato questa proposta di risoluzione sul sistema neve, cosiddetto sistema neve, perché secondo il Lamma il problema neve andrà avanti, non si sa per quanto. Quindi ci vorrà un qualche cosa a medio e lungo termine per dar modo a queste località, in particolare a Betone, di tirare avanti. L'estate la gente sta andando molto di più in montagna rispetto agli anni pre-Covid, questo è vero. Però diciamo che in queste località non può bastare solo il turismo estivo, anche perché tante attività sono collegate al turismo invernale. Quindi con questa proposta di risoluzione si chiede che la Giunta continui nel tempo a dare aiuti a queste comunità dove si scia. E inoltre anche si chiede al Governo che porti avanti un decreto sugli appennini. Sembra che ci siano tanti soldi in ballo. Non si sa bene come verranno destinati sia tutti gli appennini o solo alle località sciistiche. Diciamo che noi siamo favorevoli a questa proposta perché in un primo tempo sembrava rivolta molto agli impianti sciistici. Io però ho fatto presente che i problemi sono anche di bar, ristoranti, attività commerciali, attività di noleggio. Tutte quelle attività che ci sono nei comuni dove si scia. E quindi un'attenzione occorre anche a questi che finora hanno resistito e devono continuare a resistere perché non si possono far spopolare questi territori. Intanto pensiamo che c'è sicuramente un effetto di cambiamento climatico, ma non così grave come viene raccontato la narrazione ufficiale. Io voglio ricordare che l'inverno del 2021 è stato l'inverno più nevoso degli ultimi cento anni. Quindi questo è evidente. Se questo è vero io penso che sia necessario investire sicuramente su forme alternative di andare in montagna, lo sci alpinismo, le ciaspolate, il turismo lento estivo, ma sia necessario anche tutelare il comparto neve classico, l'impianto di risalita e per far questo si deve investire soprattutto nei bacini idrici perché alla Betone, alla Miata non nevica meno che a Cortina o in un'altra località rinomata delle Dolomiti. Semplicemente c'è un sistema di innevamento più efficace e più veloce, quindi in una finestra climatica di 24, 36, 48 ore riescono a innevare tutto un intero comprensorio. Noi abbiamo difficoltà perché gli impiantisti, le stazioni invernali possono sparare una al massimo due volte, due cartucce in una stagione perché poi finisce l'acqua e non ci sono più le disponibilità. Quindi la regione se vuole difendere il sistema neve, se vuole difendere l'industria della neve, deve investire nel nevamento artificiale, deve investire soprattutto nei bacini idrici. Il che non significa poi far sviluppare nuove forme appunto di turismo, come dicevo, il turismo non è soltanto lo sci classico, penso allo sci alpinismo, noi proponiamo con un atto di creare delle aree dedicate all'uscita d'alpinismo e alle ciaspolate, proponiamo di investire sulle strutture ricettive. Altra cosa, non si deve mortificare coloro che provano a mettere in campo iniziative anche fuori, cosiddetta fuori stagione. Era prevista per il luglio scorso ad Abetone l'unica tappa italiana del circuito mondiale di motociclismo Red Bull One che porta circa 5-10 mila visitatori nella località per tre giorni con una ricaduta di qualche milione di euro. Ebbene, gli organizzatori hanno rinunciato a organizzare quell'attività perché le pastoie burocratiche, perché i precetti, perché i vincoli che venivano posti dai vari enti comunque a un certo punto hanno mortificato e sfiduciato gli organizzatori. Quindi va bene destagionalizzare, però non mortifichiamo chi lo fa, investiamo su forme alternative ad andare in montagna, ma tuteliamo i nostri impianti sciistici e di risalita soprattutto investendo sui bacini artificiali per la neve programmata. Del sistema neve e soprattutto di come cercare di rilanciarlo, sentiamo parlare ormai, almeno dalla nostra presenza nel Consiglio regionale, cioè dal 2015. E prima di pensare a nuovi risorsi, a nuovi stanziamenti, vorrei fare una domanda che finora è stata in evasa da questa giunta. Quanto denaro è stato speso negli ultimi dieci anni per il rilancio del sistema neve, quella neve che vediamo bene oggi con i cambiamenti climatici essere sempre più assente non solo sull'Appennino, ma anche sulle Alpi. Sono stati soldi ben spesi oppure quella destagionalizzazione che più volte abbiamo chiesto doveva essere attuata in modo migliore, come per esempio in Trentino e in altre regioni hanno fatto, perché altrimenti ci ritroveremo per l'ennesima volta a dare dei fondi a soggetti pubblici, privati, per rifar ripartire un tipo di turismo che è palesemente in questo momento non corrispondente a quella che è la situazione climatica attuale. E questo comporta dispendio di denaro pubblico, che è il problema principale. Quindi la domanda da farci è, sono stati soldi ben spesi? Si possono spendere meglio? Questa è la domanda che nessuno si fa. È necessaria in Toscana armonizzare l'attività delle stazioni sciistiche? Serve uniformare gli impianti di risalita? Serve fare una legge quadro generale della montagna per definire le aree sciabili e soprattutto per garantire il trasporto pubblico degli impianti di risalita a tutti i cittadini toscani e non solo ai turisti e serve soprattutto favorire una fruibilità nei mesi ovviamente invernali con impianti di innevazione a carattere artificiale, di innevamento a livello artificiale, ma soprattutto con delle risorse che sostengano un settore che altrimenti rischia di andare in difficoltà anche a seguito del cambiamento climatico che differenzi la stagione turistica della montagna e faccia della montagna toscana un unico grande sistema della neve. Un po' come deve avvenire sulle terme, così con la montagna la Toscana deve uniformare e standardizzare a mio avviso le tariffe, l'organizzazione, la qualità dei servizi e fare un unico grande livello di promozione del sistema della montagna. L'opportunità e la legge per la montagna, intanto bene una risoluzione che va in questa direzione e poi bisognerà nei prossimi due anni definire in maniera puntuale tutti questi aspetti. Approvata all'unanimità in Consiglio regionale, una legge a tutela dei lavoratori esposti a caldo estremo, la proposta, presentata da numerosi consiglieri del Partito Democratico e che vede come primo firmatario Andrea Vannucci, interviene modificandola la legge regionale 28-2019 per sottolineare come in materia di sicurezza sul lavoro, appaia meritevole di una particolare attenzione in tema della prevenzione del rischio da stress termico negli ambienti di lavoro. Sì, l'abbiamo visto, l'abbiamo visto anche nella nostra regione con episodi drammatici e l'abbiamo visto nel resto d'Italia, soprattutto nelle regioni del centro sud e nelle isole. Una canicola che ormai non è più un'emergenza, è una costante perché sono già diversi stati in cui per periodi più o meno lunghi le temperature raggiungono vette altissime e questo ha un impatto sulla salute di chi lavora, soprattutto di chi lavora in determinate condizioni. Penso ad alcune categorie ma sicuramente è un elenco che non può dirsi concluso, penso per esempio a chi lavora nell'edilizia, a chi lavora sulle strade, a chi lavora in alcune cucine. Questo evidentemente è un qualcosa che merita la massima attenzione da parte della politica e non soltanto. Questo è un percorso che avevamo iniziato presentando la proposta e con il lavoro in commissione, diciamo quando le temperature erano più umidi evidentemente e il calendario ha voluto sostanzialmente che si arrivasse al voto forse nel periodo più caldo dell'anno, anzi sicuramente almeno fino adesso nel periodo più caldo dell'anno. È una proposta che è diventata legge che istituzionalizza anche riguardo al tema della sicurezza sul lavoro rispetto alle temperature estreme, il cosiddetto stress termico, quello che la legge prevede come attenzione in più per alcune situazioni localizzate geograficamente all'interno del nostro territorio regionale, ovvero il macrolotto di Prato e le cave nel Carrarese. Chiediamo quindi alle istituzioni, ai soggetti attraverso questa legge di mettere in campo una sinergia ancora più forte, di mettersi a un tavolo, stilare protocolli, accorgimenti, misure che mettano in condizione i lavoratori di svolgere il più serenamente possibile il proprio lavoro. Noi crediamo che questo sia un elemento di attenzione di civiltà che la nostra regione non poteva non fare. Quindi devo registrare con grande piacere che la proposta è stata approvata con unanimità sia in Commissione sia in Aula a dimostrazione di quanto evidentemente nel momento in cui si parla di sicurezza sul lavoro, di salute dei lavoratori, non bisogna dividersi politicamente ma muoversi nella medesima direzione e nell'interesse di tutti i cittadini. Diciamo che in Commissione Sanità avevamo già trovato una quadra sull'argomento ma è una questione di buonsenso. Inizialmente in Commissione devo dire avevo avuto qualche remora per il semplice motivo che mi sembrava un eccesso di zelo perché comunque i lavoratori sono soggetti alle visite del medico competente e conseguentemente pensavo che potesse essere un sovrappiù. In realtà poi discutendo credo che ribadire con una legge una questione di questo genere possa essere assolutamente utile. In fin dei conti esistono per esempio a Dubai degli orari di lavoro che sono notturni quindi è giusto che anche noi teniamo conto di questi sbalzi di temperature che magari fino a qualche anno fa non ne venivano nemmeno prese in considerazione. Si dice che non ci sono le mezze stagioni. In realtà mi sembra che ci sono soltanto brevi stagioni intense sia estive che invernali. Vedete i vari acquazzoni che leggiamo quotidianamente. Per cui a parte gli scherzi credo che questa legge sia appunto una legge di buonsenso che ribadisce certe situazioni cambiate nell'arco degli anni. È una proposta che noi abbiamo anche firmato e chiaramente abbiamo votato favorevolmente in aula. È una proposta che in alcun modo limita la capacità di esprimere la produzione ma tiene conto invece delle necessità anche dei lavoratori che a fronte di un cambiamento climatico che in questi giorni abbiamo avuto modo di non apprezzare ma di verificare con forza e tenga conto di queste necessità. Ci sono operatori nel campo dell'edilizia, nel campo dell'agricoltura che si trovano nelle ore centrali del giorno sotto temperature incredibili a dover lavorare. Che cos'è che si chiede? Il rispetto di questi lavoratori mantenendo lo stesso orario di lavoro ma sposticipato dalle ore centrali e quelle più calde. Il che non influisce appunto sulla produttività ma salvaguardia invece l'integrità fisica e la salute del lavoratore. Bisogna tenere conto che in questo paese a norme che tutelano gli animali dal lavoro in caso di climi torridi o oltre una certa temperatura la norma sui fiaccherai qui a Firenze è un esempio, è più che opportuno tenere conto di questi cambiamenti climatici e andare incontro alle necessità dei lavoratori che fanno anche lavori complicati e complessi. L'altro giorno ho avuto modo di seguire un signore che lavora sulla gru a 50 metri d'altezza che sposta pesi enormi e diceva io mi sono quasi sentito svenire se non bloccavo la gru e scendevo rischiavo di fare grossissimi danni. Quindi non soltanto tutelare i lavoratori ma tutelare anche tutti i cantieri e le cose che abitano o vivono intorno ad essi. e doveva essere un intervento tempestivo da parte della regione toscana così come lo hanno fatto quelle della Puglia, della Calabria e della Sicilia. Doveva intervenire secondo noi con un'ordinanza che in condizioni particolari di stress termico soprattutto per chi lavora all'esterno e non ha possibilità di ripararsi nelle ore centrali della giornata doveva essere previsto la possibilità di uno stop e anche della cassa integrazione. Agendo in questo modo con una proposta di legge che sicuramente è positiva ma non risolve nell'immediato il problema non si va al nocciolo del problema che fondamentalmente è quello che attualmente fino ad agosto molti lavoratori saranno sottoposti a condizioni estreme e non saranno tutelati. Tutela che è innanzitutto a carico del datore di lavoro ma in cui il soggetto pubblico deve fare la sua parte. La regione soprattutto quando si tratta di controlli con le asle per verificare dove queste condizioni sussistono o meno e poter agire. L'ordinanza era l'unico modo per poter andare diretti al problema e invece così facendo si è messo un panicello caldo ma niente di più. È stata molto più coraggiosa l'iniziativa delle altre regioni sicuramente.